Hola, ciao a tutti, bentornati anche in questo video. Allora, io torno un po' boom, così all'improvviso. È vero che anche in quest'ultimo periodo i miei video sono mancati. E adesso torno con questo e voglio farvi subito la prima premessa. Torno con questo video e non con altri perché in questi ultimi giorni sono stato in ferie, quindi ce l'ho fatta anche registrare altri video e altri discorsi di cui vi volevo parlare, le novità, tutti gli ultimi periodi, l'ultimo periodo, quello che mi è successo, cose belle, meno belle, eccetera. Tutte queste ultime spiegazioni, o anche parlare con voi sul discorso YouTube, Google+, ancora avevo fatto il video anche lì per fare due parole. In queste giornate qualcosa ho quagliato, registrato, però non li ho poi montati. Mi sono invece spicciato e attivato per fare questo video perché siamo nella settimana clou dell'apertura da lunedì. lunedì 9 dall'apertura appunto dell'e-commerce con la linea di Daniel, quindi la sua linea curata da lui stesso come direttore artistico e quindi volevo mostrarvi meglio i prodotti perché mi avete fatto tantissime richieste. Quindi lo faccio anche perché subito mi avete scritto rispetto alle fotografie in Facebook che ovviamente trovate, vi dico subito il link dato che dirò mille volte guardate in Facebook, il link è solito qui sotto, mi avete detto dalle fotografie non vedo, non capisco, facci l'iswatch, parlacene meglio, cosa ne pensi, facci il video. Quindi mi avete fatto tante richieste e allora subito ho cercato di conoscere bene i prodotti, toccarli con mano, rendermi conto, guardare il sito e fare una preview, farvi un discorso e cosa ne penso. E poi come seconda cosa, oltre a cercare appunto di informarvi, di mostrarvi meglio i prodotti visto che adesso è il momento che state cercando maggiori informazioni, faccio il video proprio anche per ringraziare nuovamente Daniel che ovviamente l'ho già sentito e ringraziato ma già da prima perché vi spiego, io non me l'aspettavo neanche, adesso appunto faccio questo mini discorso, non me l'aspettavo neanche che mi proponesse, quindi si è fatto vivo lui, mi ha fatto strapiacere che abbia inviato questo pacchetto per farmi provare appunto tanti, praticamente tutti i suoi prodotti in onore comunque dell'amicizia e della conoscenza di questi ultimi due anni. E appunto proprio per questo, perché mi ha fatto così piacere, è stata davvero una sorpresa anche per me, ho cercato in qualche modo di ringraziarlo, quindi gliel'ho detto subito via telefono e poi ho cercato di ringraziarlo pubblicando, se appunto avete visto anche qui in Facebook, le nostre fotografie appunto risalenti alle prime circa due anni fa perché era inizio 2012 che appunto lo conoscevo, andavo da lui nel negozio solito Kiko, quello lì centralissimo in via Vittorio Emanuele, prime volte così, un po' di soppiatto le prime fotografie e poi girando con lui, shopping, qualche giretto comunque l'abbiamo fatto man mano e quindi ho ripostato le fotografie perché ci tenevo, perché sono contento davvero per lui, dato che da sempre mi piaceva, da sempre cercavo di farvelo notare perché dicevo questo ragazzo è bravo, è talentuoso, poi è piacevole assolutamente, è a modo, garbato, è una persona squisita anche dal vivo quindi cercavo di presentarvelo sempre e mi fa sorridere adesso a distanza di due anni che non è neanche tantissimo volendo che lui esce con una sua linea, una linea curata da lui, comunque quindi mi fa stra piacere, ha fatto successo, fa tanti video che ogni volta riscuotono veramente tanto successo quindi ho tanto piacere a rivedere dopo questo neanche tanto tempo passato che abbia così tanto cambiato al fin fine la sua vita perché se riguardate ancora adesso i commenti sotto quelle fotografie già si doveva presentare ciao, sì sono io, sono Mr. Daniel Makeup, sì sì sono io perché comunque sotto i commenti tanti dicevano ma chi è, chi è, chi non è, ah forse l'ho intravista, forse fa video su YouTube e adesso invece faccio un successone, quindi a me fa piacere e allora volevo un po' ricondividere il passato perché poi in tante mi dite, ah sì ma forse l'ho visto, era con te a Londra, però c'è anche tutto il passato che spero, spero che si sia visto perché è veramente una persona squisita che mi piace da sempre, da quando ha un po' esordito e poi sì in ultimo a giugno scorso ci siamo ritrovati, lui poi con i suoi amici ci siamo trovati per andare a Londra in fiera e mezzo, quello vabbè ve l'ho detto, è stradetto e andateci, prenotate, prenotate perché ne vale la pena basta, quindi altra premessa troppo lunga è questa, però vabbè ringraziamenti alla fin fine ci stanno come li ho fatti in Facebook e poi diciamo anche questa, ha fatto 31 diciamolo anche se serve o meno io comunque non me ne viene in tasca niente, sappiatelo come al solito, quando si dicevano le cose si può andare a pensare ne parli bene apposta, non lo so, io spero che in questi anni mi crediate come sono comunque al solito limpido, schietto e sincero perché mi ha fatto questo regalo in onore comunque così dell'amicizia io adesso comunque sono libero di parlarne come voglio, anche lui mi ha dato sempre la massima libertà non abbia nessun tipo di accordo, quindi io comunque ve lo dico, che poi ci crediate bene, non ci credete non so che farci, ho pazienza perché lo so che al giorno d'oggi si vede il marcio un po' ovunque anche io sono il primo che ormai non crede perché poi ci sono un sacco di tipi di persone, video ormai è marcio anche YouTube diciamocelo, quindi sono saltate fuori tante cose quindi comunque io le cose ve le dico come stanno, spero che mi crediate quindi andiamo al pacchetto che le mie premesse sono sempre troppo lunghe intanto spero di avere un po' detto tutto quindi pacchetto che arriva, eccolo qua, pacchetto ecologico e appunto arriva con Bartolini, velocissimo, ho visto che la consegna, l'ordine lo evadono il giorno dopo se fate l'ordine entro le 16, se fate dopo le 16 evadono il giorno dopo ancora ma comunque pensate che due giorni vi arriva a casa o poco più, è velocissima la cosa Bartolini, eccolo qua che appunto lo consegna, me l'ha consegnato il leso, benissimo dentro viene riempito con tutta quella carta a striscioline a striscioline come avrete visto nelle fotografie quindi tutto protetto molto bene più alcune cose delicate vengono inserite nelle bustine col pluriball e poi vabbè non vi sto a dire più di tanto del sito, di tutti i discorsi che ha fatto lui la presentazione, andate a vedere il sito anche per tutti i prezzi sappiate che ci sono gli sconti in questo periodo, non mi ricordo se fino al 16, non lo so non mi ricordo più, comunque stanno facendo lo sconto di benvenuto di questo primo periodo anche sulla consegna insomma è tutto scontato, i prezzi già sono buoni infatti a me fa strapiacere a priori che finalmente rispetto a uscite di altri tipi, di altre marche in generale che sono molto simili, tutte le cose si assomigliano ripetitive, banali mi ha fatto piacere vedere finalmente qualcosa di un po' diverso e soprattutto ingredienti curati perché diciamolo anche qui a priori come premessa sapete che se avete visto tutte le cose sono cruelty free sono prive da tutti oli minerali, siliconi, parabeni, editaf, talati, peg, micidiane anche quelli insomma tutti i vari oli minerali e derivati petrolchimici quindi sono esenti tutte tranne le matite che dopo vi faccio vedere i prodotti sono per vegani anche a parte anche qui mi è venuto un attimo il pensiero e il dubbio bisogna se siete vegani così non so di verificare perché in alcuni contengono la cera d'api ovviamente perché essendo tutti ingredienti naturali c'è la cera d'api non lo so se comunque il fatto che non è derivato da animale non lo so se comporta qualcosa esattamente per i vegani comunque questo sappiatelo così in linea generale detto questo vi faccio vedere subito partiamo dalla prima cosa e dagli ombretti il grande classico allora ci sono ovviamente sia gli ombretti nella propria cialda singola con packaging quindi mono, l'ombretto mono e poi senza packaging potete acquistarli ovviamente nella soluzione cialdina sfusa che ovviamente conviene mi sa che adesso sono sui 5 euro o poco più e niente quindi l'ombrettino così sfuso simil mac, ottima soluzione questa qui adesso mi viene in mente devo ricordarmi dopo di dirvi una mia scemate ovviamente guardando il logo che mi piace moltissimo e niente questi qua sono quelli che dicevo prima imballati tra le cose delicate imballate quindi nel pluriball e niente di questi qua adesso vi faccio subito vedere quando li tirate fuori sono su questo supporto di cartoncino quindi sfilate e la cialdina è su questo supporto e poi comodissimo quindi tenere gli ombretti questi ombrettini qua in queste cialdine nella sua palette che hanno creato questa qui magnetica appunto bella leggera in questo solito cartoncino spesso bella sottile il logo anche qua è dietro tipo simil Z palette e comoda pratica impugnabilissima è quella forse come dimensione più corretta da portare in giro in generale poi la cosa bella che rispetto a tante altre marche hanno fatto positiva per noi è che non legano le cialdine al proprio marchio perché comunque con una palette magnetica così libera ci possiamo mettere quelle di qualsiasi altro marchio si può scambiare tutto invece di solito sapete che Kiko e tutti gli altri legano esattamente la propria palette alla propria cialdina qui invece è dato che mi avete chiesto subito ma che dimensione hanno prima di tutto sono 3 cm di diametro e rispetto a una cialdina MAC vedete la differenza eccola qua così capite appunto rispetto alla cialdina che sono un po' più grandi e per il prezzo che hanno per la qualità comunque degli ombretti penso che ne valga la pena perché vi faccio vedere come sono belli adesso io appunto in velocità li avevo già applicati parto da allora vi leggo sotto questo è Interference questo qui spero appunto poi rendano con le mie luci videocamera questo qui è un grigio tortora con un riflesso lilla al centro abbiamo Aphrodite che è questo rame molto rossiccio ramato molto ramato particolare indubbiamente e poi questo che si chiama Glitz ma viene definito come bronzo secondo me è un oro scuro con un riflesso anche un po' marroncino c'è una punta di marroncino sotto abbiamo Extra Virgin questo qui è bellissimo veramente questo verde vedete che è dorato bellissimo poi sono sempre tutti scriventi questo un po' meno forse mi dice un po' poco è un grigio così un grigio luminoso e si chiama Dreamer mentre il verde acqua che è fantastico si chiama Atmosphere verde acqua che è dorato non so se si capisce ha un riflesso dorato quindi questi qua sono tutti quelli bright che mi sa che non l'ho detto finora sono i bright e mi sa che sono i sei bright e poi ci dovrebbe essere gli altri sei che sono matte o velvet quindi sono quelli o matte o leggermente satinati c'è l'illuminante quindi dovrebbe essere sei sei ecco se non dico una cavolata quindi detto questo vi faccio vedere invece la mia scemata perché ovviamente riparlando di questi di questi qua cosa vi fanno venire in mente questi tutti questi questi loghi che a me appunto sono risultati molto molto carini non so se li usavate anche voi da bambini quegli aggeggi in cui si metteva la penna si puntava si faceva girare si creavano questi loghi carinissimi non so come si chiamano però io sono talmente bacato mi viene a dire io devo andare a per chiusire qui la casa sono riuscito a far saltare fuori l'aggeggio e appunto non so che nome abbia giro mark questo qua si chiama però non lo so poi il nome per definirlo appunto e niente qui poi mancano qui manca un pezzo e qui mancava pure una rotellina una ghiera che va dentro niente c'è la ghiera plastificata quindi appunto se riuscite a capire si punta la penna e poi basta girare che anche lui gira e si creano questi effetti insomma che mi piacciono tantissimo guardate cosa si riusciva a fare appunto io penso che li conosciate ma questi qui sono i miei preferiti e niente fatto sta che se mi ero messo di nuovo rifarli comunque io sì io le mie scemate io ci vivo ci tiro avanti e vabbè quindi sono riuscito a ripescarli perché era nella mia cartelletta di artistica appunto delle medie fantastica cartelletta quindi mi sbizzarrivo negli anni 90 94 95 96 perché sicuramente era a cavallo tra elementari e media quindi più o meno sì poi 95 96 perché era lì dentro infatti nelle cose di artistica educazione tecnica che mi piaceva molto quindi stavo lì a farli comunque questo è tutto per dire che questo logo mi ricorda queste scemate qua comunque andiamo avanti correttore questo qua non lo so non mi sta convincendo del tutto non mi fa impazzire forse sono condizionato un po' dal colore comunque il packaging esterno è questo i pacchettini sono tutti così come avete visto ci è spiegato tutto ci sono tutte le tutti gli ingredienti sono sempre riportati anche sul sito che non è da tutti questo si chiama Under Eye Concealer e il suo logo ce l'ha davanti no non si vede c'è troppo sbiancato comunque questo è il numero 2 e quindi è quello intermedio c'è 1, 2, 3 o che è leggermente troppo scuro per me perché io l'ho messo adesso ad esempio fra l'altro mi vedo anche gli occhi rossi perdonate ma mi sono manipolato gli occhi avendo tolto le lentine a contatto mi vedo un po' l'occhio rosso di qua comunque mi ha fatto un po' l'alone più che altro perché ha un sottotono un po' giallo un po' giallo aranciato quindi mi si notava poi adesso io ho su comunque la BB Cream anche perché qua c'è un brufolo enorme chi l'ha visto chi mi ha visto dal vivo me l'ha detto su di ogni ma io non l'ho toccato e finalmente si è ridotto e quindi adesso ho sulla BB Cream che ha omogenizzato però mi si vedeva un po' quindi io do colpa più che altro alla colorazione che forse non è propriamente la mia forse il primo è più adatto non lo so comunque è bello però perché si fissa è leggero è leggero si fissa bene rimane opaco mi sembra quasi troppo asciutto forse quasi troppo asciutto appunto perché il contorno occhi che di solito fanno le cose troppo grasse troppo cremose e vanno a infilarsi nelle pieghe questo qua in effetti mi piace molto asciutto considerate che appunto si fissa bene è sottilissimo non è pesante è bello bello leggero sfumabile però copre copre quindi è bello è un po' il colore che non mi ha convinto del tutto forse è quello comunque andiamo via se no non finisco più Liquid Tech è la linea che identifica poi questo blush che l'hanno presentato in questa pennetta la pennetta sul fondo ha il suo logo e il suo logo è la parte la ghiera che ruota e permette di far uscire il blush che appunto esce da questo puntale di silicone quindi carino simpatico lo si mette appunto picchiettando non so in diversi punti si fanno più puntine poi appunto si sfuma si unisce base acquosa è liquidissimo però fa il suo alone di colore sembra abbastanza omogeneo carino sembra appunto sembra carino e questo qui è il classic ed è rosa che però sembra rosa vederlo tendo un pochettino secondo me che questo al mattonato aranciato esce un po' una sfumatura un po' aranciata è comunque delicato e modulabile da quello che ho visto poi liquid tech è la linea anche dei lip color quindi dei rossetti liquidi perché se chiedete rossetti così hanno fatto questi quindi la stessa lo stesso pennino che però qua ha proprio l'applicatore con le sitole sintetiche quindi anche qua basta girare adesso facciamolo uscire proprio appena appena perché guardate che ne basta ne basta una punta eccolo qui che è uscito ne basta una punta adesso l'ho messo in una posizione un po' improponibile e vedete che anche a tirarlo vedete quanto colore vedete quanto colore che c'è anche a tirare a spostare quindi è tendente anche a una tinta perché è un po' tinge da quello che ho visto la resistenza c'è e l'ha subito provato perché che bel colore se l'è messo nutre bene perché non segna anche le labbra sono un po' più rugose così è bello è bello cremoso è bello nutriente appunto profuma di rossetti di una volta molto piacevole e niente c'è questa colorazione proprio bella subito bella intense sono subito belli coprenti e piuttosto resistenti anche se sono un po' tipo gloss rossetto liquido gloss per farli per non farli sbavare per la massima tenuta nel contorno labbra hanno fatto la matita questa qui ghost matita bianca che rispetto alle solite che sono siliconiche e quindi fanno il bordino siliconico che trattiene il rossetto non fa sbavare questa qua solita trasparente che però è con cere naturali quindi carina anche questa qua è una di quelle cose che ormai super utile che non c'è più il problema del colore della matita tipo anni 90 che faceva tutto il contorno scuro chiaro e sballato col rossetto non c'è più problema rimaniamo in tema rimaniamo in tema labbra e vi faccio vedere i gloss che sono questi qua eccoli qui si presentano si presentano così astuccio tubetto ah ecco cosa non vi ho fatto eccolo là non vi ho detto blossom dance che è questo color questo color fucsia fucsia ciliegia ecco cosa non vi ho detto e ok ecco perché avevo in sospeso qualcosa e niente questo vi faccio vedere questo qui nude rosato molto molto carino non sembra spero si no ci sono dei glitter quindi è molto luminoso micro glitter niente di nessun pezzettone visibile che rimane e questo è today quindi questo qui nude vabbè anche a farvelo farvelo vedere applicato non so più di tanto questi qui cosa si possa vedere ecco vedete che c'è un station alone rosato molto molto luminoso appunto per questi micro glitter comunque discreti assolutamente discreti e l'altro invece che si chiama surf ed è questo qua questo qua che vedete è questo color azzurro verde acqua con tutti questi riflessi questi micro glitter anche in questo caso questo qui è uno di quelli tanto poi rinomati ricercati usciti con vari marchi perché è di quelli azzurrati e quindi dovrebbe aiutare a far risaltare meglio il bianco dei denti applicato comunque trasparente cioè non è che e poi infatti anche io se me lo metto alla finitina è solo è solo un gloss così è solo un gloss idratante che appunto hanno anche abbastanza abbastanza tenuta a quanto pare non sono troppo appiccicosi e adesso avrò i denti bianchissimi non lo so no io poi già che non ho i denti né bellissimi né particolarmente bianchi boh comunque non lo so se magari aiuta a metterlo sì è molto infatti è molto lucido molto essendo così micro glitterato ma è glitter ripeto non si vedono sono comunque discreti speriamo magari aiuta un po' a sbiancare i denti e la cosa che comunque io adoro di questi gloss che mi piace appunto tantissimissimo è la profumazione e quindi anche il gusto che si sente addosso vi dico finalmente un gloss che ha un profumo diverso dai soliti che solitamente di cosa sentono? di fragolina di bosco di caramellina appunto alla fragolina tutti questi fruttini dolciastri nauseabondi stomachevoli io di solito mi ripeto sempre con queste parole questi finalmente non sono i soliti profumano sentono di lui Daniel ha detto caramella al limone secondo me torta al limone perché è proprio l'impasto quando fate l'impasto della torta o crema pasticcera che c'è dentro la scorzetta di limone la buccia di limone così quindi sente di dolce ma c'è la freschezza del limone quindi si sa di caramella al limone in sostanza è vero buonissimi e il logo qui sopra qui si vede eccoli qua quindi piacevolissimi veramente io vabbè lo adoro quindi tutte le cose aggrumate però secondo me è molto più piacevole di altri che ti vanno in gola che senti quel dolciastro terribile ah e poi per il confronto avevo preso uno di MAC ma dato che questi un po' assomigliano anche a tanti altri anche in questo caso e appunto potete pensare sì sono simili a quelli di MAC così ma io non ho i Desert Glass e appunto quelli di MAC classici perché ho sempre preso edizioni speciali lunghi storti fatti tutti strani quindi anche in questo caso io ho questo qui di Malefica di questa collezione Disney che ho super mega adorato eccola qua e quindi va bene era giusto per farvi vedere la proporzione torniamo agli occhi e vi faccio vedere le matite così intanto io me le sono preparate e applicate questa qua che vi mostro è la Rocky eccola qui il logo è qui e questa fa parte ancora di quelle con ingredienti buoni e quindi questa qui già è un nero intenso è praticamente un Kajal ed è quella da questo lato eccola qua poi ve la volevo confrontare con un'altra questo qui è appunto già un bel nero intenso è tipo un Kajal sfumabile per fare lo smoky però non è grassa non è di quei di quei matitoni anche grassi sfumabili e appunto troppo unticci perché è comunque parecchio asciutta e quindi non si fissa e la si può lavorare ve l'ho messa a fianco alla biomatita pastello quindi di neve questa qui nera che già all'epoca non mi era piaciuta per confermare la visione che comunque si può fare di meglio con una matita appunto con ingredienti naturali e mi fa piacere che questa marca vada magari un po' a fare gli angoli appunto a scalfire non so non mi viene il termine giusto non mi viene il modo di dire marchi come neve o altri che magari sono più cari e quindi riuscire ad avere buoni ingredienti con un prezzo molto più abbordabile comunque neve è questa qua più lunga come vedete io ho insistito comunque con due passate ma vedete che non è nero penso che renda abbastanza si vede che non è nero pieno mentre vi faccio vedere le matite che sono invece quelle con ingredienti sintetici perché per mettere la lunga durata perché siano belle performanti ahimè ci deve essere qualcosa tipo silicone e quant'altro che ovviamente le fa durare moltissimo sono queste qui le velvet line sono fatte così eccovele qua e queste sono made in germany rispetto a praticamente tutto il resto da quello che ho visto che è made in italy fatto a Roma perché è una è questa azienda che c'è a Roma quindi vi faccio vedere la golden aids che è questo grigio grigio micro glitterato oro eccovela qua e questa qui quindi non è particolarmente adatta per per l'interno occhio avendo questi questi glitter l'altra che è il bombay black è quella nerissima cioè questa qua vi spaventate ho fatto una passata così indiretta ho fatto una passata sola vedete vedete che è ancora più nera più nero estremo veramente carbone queste qua sono quelle che appena si fissano si asciugano diventano opache quindi totalmente opache con questo effetto velluto appunto come dice il nome ve la volevo mettere vicina alla 24x7 urban decay la solita la perversion questa qua faccio la traccia più lunga quindi eccovela eccovi la perversion per farvi capire che questa qua è la più nera in assoluto praticamente e vedete che siamo vicinissimi come è lo stesso nero proprio carbone scurissimo bellissima vado a concludere poi con l'ultimo prodotto intanto li stavo applicando per farvi vedere al meglio questo che secondo me è praticamente la cosa più carina più bella intrigante e particolare della linea di make up peccato che per ora ci sono di questo ombretto solo 4 colorazioni mi pare quindi per ora è ancora una scelta limitata penso che magari ne aggiungeranno delle altre perché è veramente bellissimo e insolito allora è questo qui stiamo parlando degli H2O come vedete il packaging esterno è questo mono assomigliano un po' a quelli gauche vabbè se vogliamo come prima vista e sono così mono con packaging e ho visto il botte risposta dell'azienda della Nabla stessa che rispondeva perché anche io l'avrei subito chiesto se c'era la possibilità anche di questi della cialdina singola sfusa ma rispondevano che questa qui non è calamitabile non è metallica per la conformazione per le fattezze appunto del materiale però ho detto magari si può aggiungere comunque la calamita come in questo caso basta aggiungere la calamitina si può attaccare lo stesso a una palettina magnetica comunque se vi state domandando avevo visto un po' così il botte risposta si apre premendo un bottoncino appunto c'è anche qui il click e lo si sblocca premendo all'interno questo questo bottoncino con questo gancetto la particolarità è proprio la texture di questi di questi ombretti e eccovelo qui da vicino spero si capisca che abbia proprio questa porosità e questa grana ha una grana grossa penso si capisca abbastanza e questa grana grossa che rimane molto molto morbida non è asciutto non è secco e a metà infatti tra assomiglia anche un pochettino un illusion dromb un pupa vamp tendenzialmente assomiglia un po' a un ombretto cremoso perché ha questo finish super super metallico luminosissimo ve l'ho messo qui al centro con gli altri che vi voglio un po' far vedere confrontare quindi è questo qui al centro più in basso vedete che è metallico luminosissimo colore pieno ed è questo bagno bagno d'acqua questo pigmento bagnato e pressato dopo che l'acqua si è tolta evaporata e quindi rimane questo colore pienissimo praticamente è molto simile secondo me come vedete a questo qua con questo riflesso super super metallico e bagnato e anche questo che però qua ahimè non rende questo qui è il è un è un ombretto di questi qui Dior Dior Show Fusion questo qui è Hypnotic che è una cosa spettacolare vabbè ecco potete notare come ha dei glitter lilla oro argento questa base questa base grigio scuro qui adesso non rende non rende molto ma è il più bello in assoluto comunque è un po' simile appunto a questi questi ombretti però soprattutto a questo qui e questo qui che cos'è è un blington quindi me li richiamate perché se vedete la grana dei blington quindi questi ombretti inglesi della My Face Cosmetics ha una grana molto simile eccoli qua quindi qua potete vedere penso che si capisca che è appunto che è molto somigliante eccoveli qui questo è il Black Eyes quindi questo è il colore più scuro perché sarebbe il loro nero però come vedete poi diventa praticamente un argento quasi quasi e niente i blington sono quelli appunto che la cosa strana sono inglesi ma poi vi arrivano dall'Inghilterra e tutto poi c'è scritto che è made in Italy non chiedetemi non lo so perché e visto che ho fatto 30 facciamo anche 31 vi mostro anche gli altri best seller proprio di questa blington più che altro della My Face Cosmetics sono questi qui adesso non ho rifatto magari un po' il packaging è così olografico e c'è l'argento che però è praticamente sovrapponibile uguale al loro best seller proprio quello classico must have della marca che va sempre sold out che è il Diamonds and Pearls se lo metto anche questo sul dito adesso qui sono più secchi quindi questi bisogna sfregarli un pochettino di più quando li mettete hanno questo effetto andiamo eccolo vedete che ha questo effetto metallico bagnato praticamente proprio effetto bagnato quindi questi qui un po' me li ricordano proprio anche come fattezza così a vederli come come pigmento così pressato tra l'altro vi voglio far vedere anche le matite non se ne vanno manco a spregare un cifrone vedete che comunque sono ancora lì le altre sia la pastello sia l'altra non tengono ecco quindi la la rocchi rocchi e pastello ovviamente appunto sono sempre quelle sfumabili queste qua non se ne vanno per niente le altre sono a lunghissima tenuta niente con questo credo di avervi detto tutto boh ho fatto un video probabilmente stralungo raccontandovi di tutto e di più di queste prime impressioni come al solito dei miei confronti e cose che che mi vengono in mente guardando guardandomi attorno e confrontando con mille altri prodotti comunque questo è tutto come vi dirò magari negli altri video con il discorso youtube google plus se volete sempre di più partecipare non perdere i video riuscire a commentare soprattutto perché perdonate ma non so non so come al solito se visualizzo tutti i commenti se riesco a rispondere a tutti perché c'è il nuovo sistema appunto di google plus quindi vi conviene fare l'aggiornamento se non l'avete ancora fatto e collegare youtube a google plus e più che altro aggiungermi non mi viene come si dice non alle amicizie ma comunque aggiungermi cliccare sulla mia pagina google plus per poter commentare qui sotto tranquillamente fare le risposte le risposte multiple a volte rispostano giù sotto nei commenti oppure aggiungere aggiungere le cerchie insomma eccolo lì mi è arrivato aggiungere le cerchie quindi cliccare sulla mia pagina google plus per seguirmi per riuscire a commentare e che io possa rispondere se no poi mi da impossibile rispondere niente comunque questo è tutto spero appunto di aver fatto vedere al meglio le cose ditemi la vostra io vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao ciao